Ciao, sono Thea Crudi. Ti presento il mantra Om Mani Padme Hum. Puoi semplicemente ascoltarlo oppure ripeterlo con me. I mantra sono vibrazioni sonore che liberano la mente. Il mantra Om Mani Padme Hum Shiu 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 Grazie a tutti. 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 Ti conto. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 a tutti. e a tutti. a tutti. c'è. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 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 a tutti. 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 , tutti. 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 , tutti. 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 . 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